ah siamo consegna il messaggio al qg sembra non è un filmato no stiamo comandando noi piccione o almeno quello che sembra un piccione non so perché ma sta parte mi sembra strafiga non so perché sembra tutto rallenti figata non c'è iniziato da dire figata ok finito il video finito il video ero troppo preso dalla musica ok ok passiamo all'azione di nuovo di nuovo dai ok ok siamo circondati e quindi se dobbiamo moire almeno almeno facciamo in modo che ammazziamo anche gli altri eh così carichiamo gli galaxy note 7 che siano lo stesso effetto di una bomba e non dite lì no mi dispiace perché io ho quel telefono mi dispiace prima o poi mi svolgerà il mondo esattamente lo so già è stato un onore combattere con voi e mogro chi da merda chi è è finita se non durati poco rispettivamente che cosa su serio siamo vivi ma di che è fatto sto che ho armato ma era ecco sembrava strano a me è esatto e tu no cazzo sei più vivo di te pensi davvero e vabbè lui è andato ma per me di che è fatto sto che ha armato e anti bombe anti tutto anti tra un po è anche anche anti atomico iettatore è lui lo iettatore non quell'altro è agli ordini meglio di sì ma stai sei sicuro che riparto questo robot esatto il volante alternativo che è più una leva che ecco mi sembrava dopo una dopo una con le soltate 5 bombe in faccia mi sembra strano che vada ancora avanti ha smesso ha smesso beh vuoi mettere in moto che così ce ne andiamo bravo e speriamo che stavolta almeno porta o parte senti che motore da cinquantino al tempo era al massimo e si riparte cazzo c'è troppa nebbia già c'è troppa nebbia 20 metri di esegna poco eh io metterei la fuma per vedere 20 metri un po' troppo ah no ok ok scendiamo scendiamo ora perché siamo scendiamo ah si va a riparare o si va in esplorazione mi sembra ok ha capito capito dobbiamo mandarla avanti e mi sei incantato già non so perché stai intera sei strano multidocatore quindi ci ha sentiti ci ha sentiti quelli con la stanghetta merda quelli con la stanghetta già la stanno indagando stanghetta non è proprio una stanghetta piano allora io in condizioni critiche gli vado addosso eh silenzio anche quello lì merda non è possibile almeno così ho un'arma forte bella al mitra beh se mi scoprono almeno potrò fargli il culo piano shhh vitto anche tu merda vabbè ormai ormai c'hai visto ormai c'hai visto meglio riparare parissimo andiamo dietro le loro file non toccare il fottuto cannone oh esatto così sto migliorando non so perché altri black bear non so ma mi troverei meglio con li avete già fatti fuori già fatti fuori pensavo fossero tipo black bear dai avanti questa è una set blaster non lo so se è silenziata vabbè tanto vale allora lasciarla qui questa no con la baionetta inesca no tengo sta qua tengo sta qua che faccio una carica della baionetta che mannaggia voi scansatevi resta qui esatto pilota sei proprio un mago quasi non sembra di stare in guerra pilota ah sono il pilota io sfondo la barriera va bene va bene va bene sto indietro sto indietro sfondo la barriera immagino già come farei esatto di nuovo va bene va bene vado 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 non allontanarti ma devo andare in una ma scoperta o no va bene mi sembra sia vuoto fin qua non so se quando di una zona già più ampia fuoco il fuoco non è buon segno crocchi oppure alleati no crocchi di qua di qua è il però mi sa che dobbiamo passare di qua e io come faccio qui no gli avverto se gli sparo quindi non posso nemmeno non posso nemmeno sparare gli devo fargli eh vabbè ecco così ci siamo avvicinati senza fare casino ovvero o mio dio o mio dio che più che cammina sull'acqua alla gesù cristo un altro trucco me lo penso c'è un crocchi eh allora io non so allora o sono più o sono efficienti oppure questo non ha fatto rumore bella e dove sono finiti gli altri eccoli mi sa che sono qua dentro qua dentro si 1 1 1 muto mi sembra di fare a se si iscrive così sono troppo silenzioso anche per me questo invece è automatico a questo no la tengo sta qua la tengo sta qua mi piace mi piace sempre che non arrivi qualcuno la c'è la vedo che mi dice che c'è qualcosa di salta salta e via quella è qualcosa di interesse importante non so perché mi indica il ramo su su boi io provo provo a sparare lì poi non so se andiamo boi è veloce velocissimo questa qua qualcuno sta innagando mi hanno sentito eccolo lì si sta avvicinando si sta avvicinando stesi mi raccomando non pensavo nemmeno ci fosse l'opzione distenditi eh lo so gioco troppo a altri no ho visto un altro che è poco raccomandabile ditto silenzio bravo g98 fanteria non penso non penso sia una buona idea ma il mirino funziona era in pieno mirino si la nebbia è una brutta bestia e ora come faccio devo mantenere operativa black bass tenete ah giusto e via di nuovo eh però non mi trovo comodo con questo mirino qua qui mira era questa scusa almeno devo tenere di operativi colpa mia colpa devo tenere gli attivi su di me non contro black bass se no 50 25 proiettili via 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 dove 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 macmanus ha detto merda e non è un'ottima notizia dove il cannone all'angia vedo che la sta bersagliano dove cazzo trovato sto arrivando sto arrivando sto arrivando ah no stronzo va bene va bene va bene un cannone l'ho buttato su eh stai tranqu... quello non dimmi che ce ne sono altri siamo riusciti a salvarla comunque almeno per adesso è meglio cambiare arma che qui questa non dura per molto automatico ah è sempre la stessa solo che ho trovato anche le munizioni è il reggel d'assalto vediamo no no si 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 questa qua è un botto di munizioni me la tengo altro che scusa ero prendere munizioni già r2 r2 no ecco così vediamo cosa riesco a fare esatto tu fai attenzione qui ci pensiamo va bene va bene va bene vai 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 io vi aspetto qui ma per quanto tempo dobbiamo andare ancora avanti mi indovino un po' cosa devo fare esatto andare in una ma scoperta ancora almeno così posso alternare ma questo mi piace non so high level design high level design di un tubo però mi sono già avvicinato all'avamposto senza camminare con G questo sentire crocchio urlare vuol dire che o mi hanno visto no non mi hanno visto non mi hanno visto quello quello sospetta aspetta no quello lì è proprio quello la mi sa che impalla e non non mi sente qua dietro qua merda vediamo è da solo? se è da solo giuro che vado alla carica da solo da solo da solo è da solo via silenzio non ti metta a ruolare con i crocchi ah già lo è devo smetterla di fare il discriminatore granata adesiva utilissima e qui invece c'è un fucile granata da fucile che? granata da fucile ma avete tradotto bene? 12 g caricatore ampliato no è un fucile a pompa e io che fucile a pompa sono leggermente uno schifo ma sono leggermente meglio meglio tornare in avanscoperta qua intorno dovrebbero esserci dei cannoni? no trincea bombe bombe? le bombe stanno vicino ai cannoni di solito che eccolo lì non cazzo vabbè ci hanno visti ci hanno visti ormai basta che non si è vicino ai cannoni quanti sono? eeeh via io ma che cazzo che azione di merda ho appena fatto cosa mi hai detto? qualcuno qualcuno che sappia tedesco mi traduce la vita si recupera la vita va ma che cavolo chi è che mi ha sparato così forte? dove sei? cavolo 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 non vedo nulla per via del fumo meglio restare qua voi avete capito qualcosa? io io no ho visto ho visto il cannone 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 ah ci hai già pensato tu bel lavoro bel lavoro mp18 base beh base ma sempre utile e prego ho liberato io la strada ma prego armi un po' più utili questi cannone queste bombe qua fa male eh questa munizioni è un'arma base ma le munizioni fanno sempre comodo hai nulla da dirmi? che sia finita questa missione? non lo so stavolta cosa hai da dirmi? ah esce tipo un diglett dal cromato presto che ca e me lo son presa io la cannonata ma in faccia ho protetto ho protetto e io cosa devo fare? ci colpiscono via via io mi proteggo qua dietro onore sto sparando a caso vi vedo crooky è ovvio che vi vedo nope io non so dove stare io sono dietro il no non è una buona idea ma non posso non posso entrare fatemi entrare maledetti non si può entrare nel co avevo scoperto avevo scoperto non proprio avevo scoperto li vedo l'ho ucciso l'ho discruccato e crepa sotto questa è questa dimmi che alla baione eeeh no voglio farla la voglio fare non mi interessa contro chi che oddio l'ho fatto esplodere non so ho fatto la carica gli sono andato addosso però però come dire non è non è come mi aspettavo che lo infilzavo non so esplodere oddio oddio ah no avevo preso qualcosa ha una mini postazione lanciarazio qualcosa di simile e siamo usciti dai boschi pieni di fango ma siamo usciti dai boschi ora esce come un diglett a quanto pare si aspettano l'arrivo mentre noi attirriamo il fuoco tu vai e li sorprendi alle spalle ma scusa ma sei pazzo o cosa? mi dici vai prima a distruggere ma io farei modo silenzioso ossia passando dal lato non se ne sono ancora accorti spero di no e già mi sono incastrato bel lavoro via così almeno uno se ne è accorto allora allora beh essa tira il fuoco e io distruggo tutto sto passando dalla parte sbagliata no no carica no non ci prova ci prova fighissimo no hanno rovinato no l'ho rovinata era bello il problema è che la testa si è compenetrata per terra e quindi ha ha annullato l'epicità della cosa ma dov'è che mi ci ha sparato? e quella lì mi sembra che fosse un carro di rinforzi quindi tanto vale farlo fuori no non devo i cannoni uno facciamo fuori gli altri cannoni poi faremo fuori questo oppure faremo in modo che ci sparino e l'ultimo colpo lo farò fuori il paro almeno così prevedo black best sta prendendo abbastanza colpi il problema è da chi? ah ecco potevi lasciarmi il lavoro i crocchi come dire quelli lì come dire i soldati normali ah finita è finita passare oh finalmente un mitra da quanto tempo è che non lo vedevo sto arrivando sto passando attraverso il fuoco sono ignifugo già andiamoce sei sicuro che quello regga se non l'avessi visto eh manca un singolo ah ce l'abbiamo fatta anche stavolta ossia la prima proprio la prima missione ufficiale ma non per esatto ora c'è un filmato non è stato difficile sono stato io che mi sono incastra no dai perchè adesso che è successo appunto guarda vado vado al dove dove vado appena si degli altri villaggi vado guarda vado all'officina adesso appena in mezzo alla giungla vedi il villaggio si si lo vedo e i nostri cari vedi qualcuno dei nostri cari laggiù no qualcosa di leggermente diverso si vedo dei cari il problema è che non sono nostri ma non sono più il nostro possesso ah non sono più ecco ci hanciavato è semplice quello che serve a Bess è proprio in quel villaggio e prendiamolo e spacchiamolo che ci vuole andiamo si come se fosse così semplice tutti e due o tu resti qui beh grazie mi serve proprio quella adesso eh non sono sarcastico ci serve veramente tanto culo adesso questo per sopravvivere a quello dimmi il carro non ripartirà e a lui resta poco tempo siamo fottuti in che senso vuoi abbandonare la missione? ma non ci arrivi? eh? proviamo se il film o poi dovrà finire questa è pesante questa è pesante questa è pesante questa era pesante andiamo quindi andiamo andiamo